Buongiorno e bentrovati in questa puntata di Mattino 6. Giovedì 15 giugno 2017 andiamo subito a sfogliare le prime pagine dei quotidiani locali, poi vedremo anche le testate nazionali, vediamo quali sono i titoli che caratterizzano le aperture dei quotidiani locali iniziando dalle quattro edizioni del centro. Siamo in particolare sull'edizione aquilana, big esclusi, resa dei conti nel PD comunali all'Aquila, scoppia la grana di Benedetto, meno voti rispetto alle liste. Poi la fotonotizia che sarà comune alle quattro edizioni del centro, ci sono delle sorprese dalle iscrizioni alle scuole superiori. In Abruzzo i licei più gettonati degli istituti tecnici, perché? E poi di spalle alcuni richiami verso il ballottaggio a Vezzano, il trionfo dell'Udc è un caso nazionale. Sempre a Vezzano furti a raffica, ladre filmate e caccia aperta. All'Aquila si imbarca per salvare i migranti. E poi ancora Rocca Casale nell'Aquilano spegne la musica picchiato in cella due rom per aver malmenato un disc jockey. E poi a Collepietro schianto mortale, ci sono tre indagati. La prima pagina dell'edizione di Chieti Ranciano Vasto. Amianto a scuola scoppia il caso elementare di via Bosio a Chieti, fibre in un terzo del pavimento. Genitori chiedono la bonifica. A Palombaro nel Chietino l'ultimo saluto ad Aurora tra confetti e palloncini. A Vasto Spizio Lager chiesti danni per 550 mila euro, mentre a San Giovanni Teatino muore a 48 anni e dona tutti gli organi. A Ortona acquisti con soldi falsi, due arresti, coppia in manette dopo lo shopping nei negozi del centro. E a Lanciano il comune si riprende il mercato coperto. L'edizione teramana, tangenti, l'inchiesta si allarga, sistema Giulianova interrogati altri imprenditori nel mirino gli appalti dal 2013. E poi la crisi al comune di Teramo, Brucchi, nuova giunta, fotocopia con due tagli. Per il calcio, repetto, firma ora l'incontro con Asta, repetto, neo DS e ufficiale del Teramo. Per il basket, roseto, fermo sul mercato, sfuma Marini. In basso, sempre Giulianova, la piazza chiude e rivolta, stoppa le auto di sera per far lavorare un ristorante. Invece a Martinsicuro, in vista del ballottaggio, parla l'uscente Camaioni, non faccio accordi con nessuno. L'edizione pescarese con l'apertura dedicata al ponte Flaiano, festa tra le polemiche. Cerimonia a Pescara oggi col ministro del Rio, ma il centro-destra anticipa il taglio del nastro. E poi ancora, sempre a Pescara, operazione dei Nasta, rosticini sequestrati erano di carne irlandese. Poi ancora a Pescara, acqua sporca, rubinetti chiusi, altri due giorni. E sempre a Pescara, sangue, appello ai donatori, d'estate scarseggiano le scorte, la ASL, dateci una mano. Per lo sport, calcio a 5, Pescara KO tra le lacrime, scudetto al Luparense. E ora vediamo la prima pagina del messaggero Abruzzo, ballottaggi, poi le grandi manovre. Il PD spera di conquistare l'Aquila e Avezzano per la leadership in vista delle politiche. Pagano, centro-destra in recupero. Marcozzi, Movimento 5 Stelle male, è stato un voto clientelare. Sotto la testata ci sono alcuni richiami. Pescara, settimana corta al classico, le famiglie alzano la voce. A Vasto, Casa degli Orrori, coppia, finisce in tribunale per maltrattamenti. E poi a Colle Pietro, schianto nella curva pericolosa, primo cittadino sotto inchiesta nell'incidente sulla strada provinciale. 42 morì Willy Patrizzi, 32 anni. Secondo la procura non sarebbero state adottate misure di sicurezza. E poi di spalla c'è un caso a Civitella Alfedena, nell'Aquilano. Il neosindaco contro le liste dei candidati con la divisa. Poliziotti e agenti carcerari hanno avuto troppi vantaggi. E poi ancora, in taglio medio, Pescara in festa per il Ponte Flaiano. Stasera l'inaugurazione con il ministro del Rio. Sempre in taglio medio, comune moroso, la copp sociale gli pignora i beni. A Chieti, oggi l'ufficiale giudiziario in municipio. Il girasole deve riscuotere oltre 90 mila euro. E poi in basso, Maiella, telefonino spento, panico e ricerche. La prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teleramo. Questa l'apertura, antivaccinisti riuniti a Mosciano. Sabato al Blue Pass, il convegno con medici, avvocati, dirigenti scolastici, politici e giornalisti. Sotto la testata, il ballottaggio a Martinsicuro. Camaioni chiude la porta agli apparentamenti politici. L'avventura dal corno grande a Pineto in quattro giorni di camminata. Poi ancora al centro pagina, la fotonotizia, il nuovo pontile a Roseto. Ecco il progetto del consigliere comunale di Sante. Poi di spalla per la politica. A Teramo, Brucchi lancia il laboratorio del centrodestra. Bruzzo Civico, il PD di Ginobili, Minosse e Verna vuole perdere. A Giulianova, Core dal porto, veleggia verso la giunta. Poi ancora allarme, falsi bollettini della Camera di Commercio. L'ente mette in guardia dalle truffe ai danni delle imprese. Poi in basso si parla di lavoro. Un appello accorato di questo imprenditore. Ho tanto lavoro da offrire ma non trovo giovani professionisti. E poi per il calcio, ripeto, è ufficiale. Ora Asta, che è il nome più gettonato per quanto riguarda la panchina futura del Teramo. Lasciamo ora i quotidiani locali. Andiamo a vedere le prime pagine delle principali testate nazionali. iniziando da Repubblica, chiaramente grande eco l'incendio del Grattacielo a Londra con coinvolti purtroppo due ragazzi italiani. Ecco qui, papà, il Grattacielo sta bruciando. 12 morti, due italiani fra i dispersi. Il rogo da un frigo, gli inquilini. Denunciamo i pericoli. E poi c'è questo titolo, questa altra apertura. Vertice segreto, Casaleggio Salvini. Di Maio, basta Unione Europea. Migranti, attacco dei 5 Stelle all'Europa. Iussoli, grillini, sono per l'astenzione. E poi in basso USA, spari su un deputato e grave. Russia Gates, Trump sotto inchiesta. Vediamo ora la prima pagina del Fatto Quotidiano. Il PD ha la fame. Renzi ha speso 14 milioni per straperdere il suo referendum. Il bilancio chiude a meno 9,5. E poi il governo scherzava. Orfeo abbuona il tetto ai compensi delle star. Ora si rischia il danno erariale in Viale Mazzini. E poi in taglio medio, leggi vergogna, dice il Fatto Quotidiano. Salva ladri con fiducia. Bavaglio è niente trojan per i corrotti. Il PD impone la norma anticronisti, combattuta quando la voleva Berlusconi. E poi dispersi due italiani a Londra. Il gran rogo dei reietti. Decine di bruciati vivi nel palazzo maledetto. La prima pagina della stampa. Londra, inferno e grattacielo. Il dramma di Marco e Gloria. 12 morti. Il padre dell'italiano dice mio figlio era al telefono con me. L'incendio forse è scatenato da un cortocircuito. I testimoni dicono di aver visto un bambino lanciato dalla finestra. E poi per la politica di Maio svolta sull'Europa sia al dialogo ma a modo nostro. Avanti ancora con la prima pagina del messaggero. Anche qui questa struggente testimonianza. Papà aiuto. Qui brucia tutto. Due italiani tra le 12 vittime dell'incendio del grattacielo londinese che ospitava 400 persone. Drammatiche richieste di aiuto nella notte. Poi il silenzio. Il rogo provocato da un frigorifero. Sotto la testata alcuni richiami. CdA un anime. Rai. Niente tetto ai compensi. Scongiurato l'esodo delle star. E poi per lo sport. Accordo con la UEFA. La Champions torna a Sky per 600 milioni di euro. Ora il nodo della Serie A. Poi un abruzzese sulla panchina della Roma. Eusebio Di Francesco dice Roma vincente con umiltà ed entusiasmo. Ieri la conferenza di presentazione. Torniamo nella parte centrale della pagina. L'editoriale di Carlo Nordio. I punti irrisolti nella riforma della giustizia. Un passo avanti e due indietro. E poi ancora in taglio medio prescrizione e intercettazioni. Così cambia il processo penale stretta sugli ascolti irrilevanti. I tempi lunghi per l'estinzione del reato. E poi il caso migranti. Minniti. Il ministro Minniti alla raggia. Il sindaco di Roma. Il modello è Milano. Il sindaco ma a Roma servono delle regole. Andiamo avanti con il tempo. L'apertura. Ambulanze funebri. L'inchiesta del tempo. Sanità di Zingaretti da incubo. 118 al collasso nel Lazio. Attesi infinite. Mezzi bloccati. La morte arriva prima degli infermieri. E poi al centro della pagina. Hashtag Io Sto Con Nicola. Non voltiamo le spalle. Dice il tempo. Aiutaci a pagare le spese processuali. Poi c'è anche un codice IBAN per fare dei versamenti. volontari. Nicola è un poliziotto di Guidonia che è indagato per eccesso colposo di legittima difesa. Il tempo si schiera al suo fianco. Per la politica. Dopo la svolta grillina sugli immigrati. Prove di asse tra Lega e Movimento 5 Stelle. Ma senza dirlo. E poi l'editoriale di Marcello Veneziani. L'Italia finisce dopo cena. Il mattino. Qui brucia tutto. Soffochiamo. Londra. Le ultime telefonate dei fidanzati di Verona. Dispersi nel rogo del Grattacielo. Il maxincendio causato dal malfunzionamento di un frigo. 12 morti. Perse le tracce di decine di persone. Poi processo penale. La riforma divide sì alla fiducia. No del ministro Costa. Critiche anche da magistrati e avvocati. Poi libero. Gloria e Marco. Nel rogo. Grattacielo in fiamme. A Londra. Molti morti. Una coppia di giovani italiani tra le vittime della strage. Al telefono con i genitori. 20 minuti. La stanza è piena di fumo. Poi il silenzio. Sotto la testata per la politica. Il Parlamento ha perso la testa. Cittadinanza agli stranieri. E per noi di vieto di difesa. E poi riforma da buttare. Legge sui processi. Roba da manette. Passiamo al giornale. L'apertura. Nel grattacielo. In fiamme. La telefonata dall'inferno. Dei ragazzi italiani. Gloria e Marco. Vittime del rogo di Londra. C'è fumo ovunque. Poi per la politica. La strategia dell'aggressione. I grillini adesso linciano elettori e giornalisti. Marino paga in tribunale. Gogna mediatica per chi critica i 5 Stelle. L'ex sindaco insultò la destra. E si scusa. Sotto la testata. I 41 VIP salvati dalla RAI. Niente tetto per gli stipendi degli artisti. E poi PD a secco. Dopo la campagna referendaria. I 12 milioni di buco di Renzi. La gazzetta del mezzogiorno. La lega cinguetta al grillo. Sul freno ai migranti. Cerca la sponda del Movimento 5 Stelle. No dall'ex attore. Passa il DDL penale alla camera. Giro di vite sulle intercettazioni. E poi ancora. Vediamo la prima pagina del secolo XIX. Due italiani nell'inferno di fuoco. E poi per la politica. Renzi punta su Grasso. Prodi si sfila. Il presidente del Senato per il voto in Sicilia. Genova sgambetto dei 5 Stelle a Bucci sul red carpet da record. L'ira del governatore Toti. E andiamo a chiudere con la verità. Questo è il titolo d'apertura. Il PD non ha capito niente. Oggi votano la legge che tramuta l'Italia in un reparto maternità per gli stranieri. Grillo può dimostrare anche sui migranti le sue non sono solo parole. Che farà? E poi ancora Fazio resta in Rai milionario. Chissà perché. In taglio medio buco di 9 milioni. Renzi sbanca il partito. Possiamo lasciare le testate nazionali. Torniamo sulle testate locali. Ripartiamo dal centro. Pagina 2 e 3 che stiamo per vedere. Anche prendendo spunto da quella che è stata la fotonotizia proposta dal centro nelle sue quattro edizioni. Ecco qui. L'Abruzzo in classe. Le scuole tecniche danno lavoro ma i ragazzi preferiscono i licei. I dati del MIUR rivelano che nella nostra regione 6 studenti su 10 scelgono classico e scientifico. Anche se la metà dei diplomati in materie tecnologiche trova subito il posto. A oltre 1000 euro al mese. E poi ancora la storia dall'ITS di Chieti alla Selmec assunto prima di finire il corso. Corsi post maturità per avere più opportunità. Ecco l'obiettivo degli ITS. Fondazioni nate dalla partecipazione di enti locali, scuole e imprenditori. Poi in basso ci sono una serie di testimonianze di alcuni studenti che spiegano quale scuola hanno scelto. Se istituto tecnico o liceo, scientifico o classico. E poi motivano anche il perché di tale scelta. Insomma diverse testimonianze, decina raccolte dal quotidiano Il Centro. Andiamo avanti, andiamo nella pagina della regione Abruzzo. Ecco qui che ci siamo. Vigili del fuoco che passione in 500 mila sognano un posto. Dopo anni di servizio i discontinui hanno ottenuto il riconoscimento di precari. Ora il governo accolga la richiesta di stabilizzazione, l'appoggio della regione. Poi ancora la Corte dei Conti blocca le assunzioni in regione. La sezione di controllo d'Abruzzo dice che vanno prima approvati i rendiconti di bilancio. Stoppa tutti i contratti di natura flessibile ai comandi e ai distacchi. Poi ancora il centro ci ricorda che domani ci sarà il venerdì nero nel trasporto. Sciopero generale di 24 ore domani. Fermi aerei, treni, autobus. Le frecce invece sono ok. Siamo alla cronaca di Pescara con l'opera del momento, potremmo definire. Il Ponte Flaiano. Oggi ci sarà l'inaugurazione ufficiale. Città in festa per il Ponte Flaiano, ma il centro-destra anticipa i tempi. L'opposizione beffa l'amministrazione comunale e taglia il nastro 24 ore prima della scadenza. Oggi cerimonia ufficiale di inaugurazione con il ministro Del Rio e 400 bambini di elementari e medie. Poi ancora dalla cerimonia al concerto, il programma della giornata si comincia alle 10.30 insieme al ministro con la dedica di una targa allo scrittore, ovviamente Ennio Fraiano. Poi alle 20.30 il taglio del nastro e la musica del gruppo Sud Sound System. A proposito di questa giornata particolare vissuta ieri con il taglio del nastro da parte di esponenti del centro-destra e dall'altra parte l'amministrazione comunale che presentava la giornata odierna, quella della cerimonia ufficiale. Insomma, su tutto questo vediamo il servizio realizzato ieri dal Tg6. Oggi c'è stato questo taglio del nastro del ponte Flaiano, voi avete fatto questo atto dimostrativo perché in pratica questo ponte è nato quando al governo della città c'era il centro-destra. È un atto dimostrativo garbato, molto diverso da quello di cui si rese autore il governatore D'Alfonso nel 2009 quando fu inaugurato il ponte del mare e anticipò l'inaugurazione del sindaco appena eletto. È un'opera che sentiamo nostra, è un'opera che però ovviamente viene consegnata domani alla città dal sindaco da colui che indossa la fascia tricolore e questo sta nelle regole del gioco. Non sta nelle regole del gioco che invece non ci sia garbo istituzionale, che non ci sia da parte del sindaco Alessandrini che subisce l'intervento a gamba tesa del governatore D'Alfonso la sensibilità di dire in maniera chiara e forte alla città che ringraziano chi prima ha lavorato e ha creato le condizioni per consegnare ai pescaresi e non soltanto ai pescaresi un'opera straordinaria come questa. Sindaco Alessandrini, domani ci sarà l'inaugurazione del ponte Flaiano, una giornata intensa che inizierà la mattina e poi proseguirà la sera anche con un concerto gratuito a disposizione dei cittadini. La giornata di domani si articola in due fasi. Al mattino un incontro sul ponte alle 10.30 con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti del Rio. Ci saranno delle scolaresche, vuole essere una quasi simbolica presa di possesso della infrastruttura del ponte Flaiano per l'appunto. E la sera la grande festa, il taglio del nastro e il concerto con i Sud Sound System. Il ponte Flaiano è lungo 85 metri, è largo 28, il suo pennone arriva a 58 metri d'altezza dal suolo. Questo ponte fa sì che coloro i quali arrivano a Pescara potranno, prendendo quello svincolo, andare direttamente nell'area centrale, nel parco centrale, come noi chiamiamo l'attuale area di risulta. Parcheggiare lì la macchina e quindi alleggerire la viabilità cittadina, perché evidentemente lo svincolo di Piazza Italia sarà fortemente alleggerito. Si calcola che ogni giorno 70.000 automobili percorrano questo tratto di strada e questo ti dà il senso di quanto questo alleggerirà il traffico veicolare cittadino. Sottolino anche che questo ponte è anche ciclo pedonale, quindi non è solo per le macchine ma anche per i pedoni e i ciclisti. E a pochi passi dalla struttura, siamo sempre sul centro, e a pochi passi dalla struttura compare un muro fatiscente dimenticato da tutti. Di vetri di transito e di sosta dalle 19 a mezzanotte proteste per l'aumento del traffico nella zona. In basso la famiglia senza casa multata dai vigili, in cinque sotto una tenda in Piazza Italia, da cinque giorni i vigili elevano un verbale per l'erba calpestata. E poi ancora siamo nelle pagine successive, sempre nella cronaca di Pescara del centro ospedale, a secco né soldi né personale, ritmi pressanti per medici e infermieri e disagi per l'utenza. Le associazioni dicono che la ASL pescarese è penalizzata dalla regione. C'è poi questa tabella riepilogativa, finanziamento per il personale assegnato dalle regioni alle ASL. Poi ancora in basso le altre priorità, radiologia, carichi di lavoro doppie per i referti degli screening mammografici. Ci vogliono due mesi. Allora andiamo ad ascoltare la denuncia delle associazioni che ieri hanno parlato delle difficoltà e dei disservizi che si riscontrano all'ospedale di Pescara. Si parla di disservizi in particolare dell'ospedale di Pescara, dell'ASL di Pescara. Voi lamentate diverse cose che non vanno. Quali in particolare? Allora in particolare il finanziamento che ha l'ASL di Pescara a fronte di un ospedale come quello di Pescara che è il primo per le prestazioni in Abruzzo e ci sono i dati che lo dimostrano. Noi abbiamo il finanziamento più basso per il personale di tutte le ASL della regione Abruzzo e questa è una cosa assolutamente incongruente e che crea delle grosse difficoltà per i servizi che devono essere dati ai cittadini. Le persone che vengono non riescono a trovare una risposta adeguata alle loro esigenze, però la responsabilità è della regione che sottofinanzia l'ospedale di Pescara rispetto alle altre aziende ospedaliere. Innanzitutto chiediamo un aumento del fondo stanziato per il personale perché tante persone sono andate via e non sono state sostituite, quindi la regione deve rivedere il finanziamento per il personale dell'azienda sanitaria di Pescara. C'è l'associazione Metis, c'è l'associazione colori della vita, il comitato dei pazienti oncologici, c'è l'associazione Alzheimer Uniti Abruzzo, poi ci sono io che sono della tutela dei diritti del malato, ma c'è anche la consulta dei medici dell'ospedale di Pescara. C'è l'AIPA, che è l'associazione dei pazienti anticoagulati, quindi a dimostrazione che è veramente un'unione di forze perché la situazione è diventata insostenibile. L'organico non è, era già, è sempre stato inadeguato l'organico di Pescara, ma adesso proprio siamo al di sotto dei numeri. Io vorrei semplicemente dare un dato sulla radiologia. Sono andati via 12 radiologi, ne sono arrivati 5. Sempre sul centro, meno donatori d'estate, c'è bisogno di sangue. L'appello del direttore del centro trasfusionale, del direttore generale Mancini, dei rappresentanti di Avis e Fidas per assicurare le coperture ai pazienti. Dice proprio il manager Mancini, come ASD siamo autosufficienti grazie all'impegno nostro e delle associazioni. Ringrazio i volontari, ma c'è necessità dell'aiuto di tutti. Avanti ancora, acqua puzzolente di vieto prorogato in attesa di conoscere i risultati dei test previsti per domani. Rubinetti chiusi per usi potabili tra le vie Spartaco e Dei Marsi. Poi ancora, la denuncia del forum H2O, veleni oltre i limiti di legge nel sito di Properzio. Avanti ancora, rosticini sequestrati erano di carle irlandese. I carabinieri del NAS controllano un agriturismo della provincia di Pescara, portati via anche i prodotti lattiero caseari preparati con ingredienti non italiani. In basso, settimana corta, troppi assenti il sabato. I genitori del Consiglio d'Istituto spiegano perché hanno proposto di cambiare orario al liceo classico. Siamo alle pagine di Montesilvano, ancora il caso di via Ariosto con le polemiche seguenti dopo lo sgombero. Senegalesi, il comune si contraddice mentre l'amministrazione promette casa, festa e un luogo di culto. Il PD accusa, dovevano pensarci prima, dello sgombero. Parla Romina di Costanzo, veramente incredibile. Si mettono in atto nel giro di poco tempo strategie antitetiche e in ordine temporale incompatibili. In basso, liquami dal depuratore, dritti nelle saline. La denuncia di un pescatore sportivo ho visto e fotografato lo sversamento il 7, il 10 e il 13 di giugno. Con la cronaca, siamo a Spoltore. Il cane scopre la droga nascosta in casa. Giardiniere arrestato. Il poliziotto ha quattro zampecchetti. Fiuta un chilo di marijuana e 15 grammi di coca. Seguestati 1785 euro. Il 51enne Mario Di Emilio era stato già fermato a ottobre del 2014 per le rapine a un portavalori e a un distributore di benzina nel Pescarese. Poi in basso, sindrome di Rett, Irene, testimonial per la ricerca. Monte Silvano solidale. Avanti ancora, sempre con le pagine della cronaca. Siamo a San Giovanni Tiatino. Muore a 48 anni e dona tutti gli organi. Stroncato da un ictus, viveva in Lituania ed era padre di due bimbe. La famiglia rispettata la sua volontà. E poi a Francavilla, da oggi si torna a pagare per un parcheggio. Scatta la regolamentazione estiva con le strisce blu. Ecco le tariffe, le strade interessate. Siamo a Penne. Cresce la presenza di romeni e macedoni, ma aumentano anche britannici e olandesi in cerca di case. In basso, a Caramanico, Mazzocca, nessun abuso nel piano regolatore. La procura archivia il caso perché gli atti scagionano l'ex sindaco di Caramanico Terme. Ora le pagine di Chieti. L'Aquila e Teramo, prima di chiudere la prima parte di mattino 6. Pagina di Chieti. Siamo in provincia di Chieti, a Palombaro. La tragedia sulla Fondovalle in Mille per l'ultimo saluto ad Aurora. Arrivano da tutti il comprensorio per la 22enne, morta dopo lo schianto. Il parroco ora è l'angelo di tutti. Palloncini bianchi e confetti. La canzone di Vasco per l'uscita del Feretro. Ci sono gli amici e i dipendenti del calzaturificio dove la giovane lavorava. E poi a Vasto, ospizio Lager, chiesti 550 mila euro in corte d'assise e le istanze per i danni subiti dagli anziani maltrattati. E sempre per la cronaca, Ortona, acquisti con banconote false. Coppia finisce in manette. In basso, scuola con l'amianto, la rabbia dei genitori in via Bossio. I tecnici parlano di fibre al 29%. Febbo e Zappalorto del centrosinistra dell'opposizione dicono che la zona va bonificata e di felice promette i lavori. Pagina Aquilana verso il balottaggio resa dei conti in casa PD. Il voto disgiunto sottrae consensi personali a Di Benedetto rispetto alle liste. Nel centrosinistra i maluori non mancano, sono rimasti fuori dal Consiglio nomi pesanti come quello dell'ex assessore alla ricostruzione Pietro Di Stefano. Poi le parole del consigliere regionale Pietruccio, consigliato a Di Benedetto di chiamare a raccolta tutti i candidati del centrosinistra in una grande assemblea prima del balottaggio per compattare il fronte. Rocca Casale spegne la musica e DJ picchiato a sangue. Arrestati due rom per aver aggredito l'animatore che si lamentava per il compenso ridotto. Pagina Teramana, inchiesta sulle tangenti a Giulianova, interrogati altri imprenditori nel Mirino, gli appalti dal 2013. L'indagine sul presunto sistema illecito di Giulianova tocca nuovi fronti. La finanza torna in comune, la Mastro Pietro intercettata con il marito diceva io non frego nessuno però il mio mo' lo voglio. E poi ancora oggi nuova udienza al riesame, si discute il ricorso dei fratelli Scarafonie e dell'ex assessore Di Giacinto. E poi la crisi del comune di Teramo, Brucchi vuole ricostruire il centrodestra. Il sindaco lancia un laboratorio politico per ricomporre la coalizione e scegliere il proprio successore. Questo è il momento per agire, non si può arrivare al 2019 senza candidato, dice il primo cittadino Teramano. Noi ora ci fermiamo, diamo lo spazio alle previsioni del tempo e poi alla pubblicità. Quindi ci ritroveremo con la seconda parte di mattino 6. Di nuovo buongiorno, è la seconda parte di mattino 6 che riprendiamo con le pagine del messaggero Abruzzo. Ballottaggi e legge elettorale, i big rimangono alla finestra. Paolucci del PD dice vinceremo soltanto conquistando Avezzano e L'Aquila. Marcozzi dei 5 Stelle con senso clientelare. Pagano di Forza Italia parla di centrodestra in rimonte. Poi occupazione dati in calo, la ripresa legata ai cluster, l'industria arranca, le prospettive sono la farmaceutica, la chimica verde, la logistica e le tecnologie. E poi ancora siamo alla cronaca di Pescara, anche in questo caso si riprende l'argomento più attuale, ovvero l'inaugurazione del Ponte Flaiano. Festa con il ministro, in mattinata la visita di Del Rio per sopralluogo e convegno, in serata taglio del nastro e concerto dei Sud Sound System. Otto anni per sistemare la burocrazia, due soli per i lavori, il grazie dell'amministrazione e dell'impresa di Vincenzo. Giornata memorabile, dice il sindaco Alessandrini citando un aforisma del celebre scrittore. Domani il passaggio della prima auto. Poi ancora Mascia, quell'opera è nata con noi ma le date non gli danno ragione. L'ex primo cittadino di centrodestra attacca ad Alfonso Alessandrini e ricorda i fatti del Ponte del Mare. Poi in basso dal treno alla bici con lega ambiente alla stazione un nuovo servizio di noleggio per le due ruote che da luglio sarà aperto a tutti. E poi ancora settimana corta il classico decide. I genitori del comitato del no chiedono di rinviare il provvedimento all'inizio del prossimo anno scolastico. Dopo un incontro ad alta tensione la dirigente D'Amico ha rimandato tutto al consiglio di istituto di oggi alle ore 18. Favorevoli e contrari ancora distanti sulle loro posizioni. Interlocutorio il faccia a faccia di ieri con la preside. Poi sempre in tema di scuola, nastrini liberi, la battaglia degli insegnanti precari anche a pescare il sitin di protesta per rivendicare cattedre in regione ed evitare trasferimenti. Poi abbiamo visto in precedenza la denuncia delle associazioni, il santo spirito è al collasso, più risorse per il personale. Grido dall'arme corale dei medici delle associazioni che alla regione chiedono di stanziare più finanziamenti. Il dottor Ciofani torna sull'ospedale di secondo livello, Fiorella Cesaroni denuncia le criticità nei vari reparti. Poi ancora rosticini irlandesi, la denuncia del NAS, carne e formaggi senza tracciabilità. Nei guai un agriturismo nel Pescarese, decine di chili di alimenti sotto sequestro, disposte sanzioni per migliaia di euro all'azienda. Poi sempre per la cronaca, un chilo di marijuana e cocaina in casa, la mobile scopre e arresta Cappellino, ovvero il soprannome di Mario De Emilio, esponente della vecchia guardia preso per droga. Decisivo il fiuto del cane Chetti. Poi ancora in taglio medio il premio flaiano in corona, Simonetta Agnello Ormi, la scrittrice italo-britannica, sarà protagonista della notte dei Pegaso d'Oro il 9 di luglio. La cerimonia torna a Piazza Salotto, dichiara soddisfatta Carla Tiboni e poi nell'articolo ci sono tutti gli altri riconoscimenti. Allora, vediamo l'intervista proprio relativa alla presentazione dei nomi dei vincitori del premio flaiano. Entrano nel vivo le manifestazioni per la 44esima edizione dei premi internazionali. Flaiano, Presidente, questa mattina c'è stato un primo step con la comunicazione dei vincitori della sezione di italianistica e di letteratura. Quest'anno il premio di narrativa e il premio per l'italianistica riconfermano questa parte importante dei premi con una partecipazione importante per noi che è quella della giuria dei ragazzi, degli studenti del liceo scientifico Galilei e della Università d'Annunzio. La partecipazione dei ragazzi, avvicinare i ragazzi alla lettura è importantissimo. Quest'anno abbiamo riscontrato molto entusiasmo e questo vuol dire che il progetto culturale che i premi flaiano stanno portando avanti da 44 anni conferma la propria validità. Quindi proseguiamo su questa strada. Quest'anno, come già è avvenuto nel 2013 e nel 2014, i premi flaiano si svolgeranno nella serata finale del 9 luglio a Piazza Salotto. Siamo molto contenti perché la partecipazione del pubblico sarà sicuramente superiore rispetto al D'Annunzio ma coinvolgerà, così come coinvolge le piazze, i pescaresi in questa manifestazione che ormai credo sia entrata nel cuore della città e dell'Abruzzo di tutti coloro che namano non solo il cinema ma tutte le varie discipline, la radio, la televisione e il teatro. Sul messaggero le pagine aquilane, quella curva è pericolosa, indagato anche il sindaco. Nell'incidente mortale sulla strada provinciale 42 potrebbero esserci delle responsabilità per il PM, mancherebbero barriere stradali e adeguata segnaletica del limite di velocità. Willy Patrizzi, 32enne, a gennaio si schiantò con la sua auto su cui viaggiava una conoscente che gli aveva chiesto un passaggio. E poi ancora in basso, Ultras, l'Aquila Calcio, nessuna estorsione per la nota vicenda del comunicato stampa preteso, il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione. Poi ancora sempre, restando nelle pagine aquilane, per la politica, unità e confronti solo TV. Di Benedetto vara la fase 2, loro cavalcano le paure. Il candidato di Vivendo l'Aquila ha riunito la coalizione, la giunta a metà tra competenze ed equilibrio di forze. E poi Moroni ammonisce, non bisogna mollare la presa, Mancini respinge il corteggiamento degli avversari. E poi ospedale, progetto case, diretto di Facebook, così lo sfidante riparte alla caccia di Benedetto. Ho avuto accesso agli atti sul project financing, la filiera del PD non svenderà il diritto alla salute degli aquilani. E poi ancora il presidente del seggio ritardatario, altro che stanchezza, mancava un voto, lavorato fino al mattino pretendendo che tutti i numeri fossero quelli corretti. E poi ancora, se al ballottaggio vince Biondi, i grillini sono fuori dal Consiglio. Nell'articolo firmato da Stefano Dascoli, ecco come si ripartirebbero i seggi alla luce dei risultati definitivi. Si parla di elezioni e di ballottaggio anche nel comune di Avezzano. Elezioni finalmente, i dati ufficiali, risolto il giallo della sezione numero 21, rimasta bloccata fino a ieri. L'uscente ha allungato le distanze di altri 105 voti. Ora si apre l'acceso dibattito sulla interpretazione della legge che prevede il premio di maggioranza. Parla il sindaco uscente di Pangrazio, in vantaggio, che arriva in vantaggio al ballottaggio con De Angelis. Non a caso tutti gli assessori candidati sono stati premiati dagli elettori. Avanti ancora con le pagine di Chieti, ufficiale giudiziario in comune, pignoramento da 90 mila euro. L'azione è partita dalla Cop Girasole, che non riesce a riscuotere i suoi crediti. La società gestisce la casa di Francesco, a rischio l'assistenza ai bimbi svantaggiati. Iniziativa senza precedenti, con i sigilli e i beni mobili del municipio dopo l'autorizzazione della magistratura. Questa mattina il blitz. Senza i finanziamenti dovuti dall'ente, la struttura sociale sarebbe costretta a chiudere e licenziare tutti. Poi in basso, Chieti e Francavilla, nuovi sacerdoti, l'arcivescovo Bruno Forte ha cambiato alcuni parroci anche in numerosi centri minori. Poi ancora, Casa degli Orrori, chiesto il maxirisarcimento, la struttura per anziani chiusa lo scorso anno a vasto partito il procedimento in corte d'assisi a Lanciano. Le parti civili quantificano il danno in un milione e mezzo, presenti in aula gli imputati principali, moglie e marito. Ruffina con l'Antonio in lacrime, ci eravamo fidati di loro, invece mio marito è morto con le piaghe. E poi ancora a Ortona, anche in questo comune, si va al ballottaggio. Marcheggiano alla squadra Castiglione deve valutare. I candidati al ballottaggio affilano le armi, parla poi Polidori, uno dei cinque che non sono riusciti ad accedere al ballottaggio, un ex oramai candidato sindaco. Faremo opposizione costruttiva. E poi ancora per la cronaca, sempre a Ortona, banconote false, coppia arrestata, shopping con pezzi da 20 euro, taroccati i negozianti lanciano l'allarme. Pagine di Teramo, siamo alla politica, Brucchi, nuova giunta sabato, ma i dissidenti fanno quadrato. Il settimo dovrà essere un tecnico, ma per il sindaco sarà molto difficile. L'assessore Eva Guardiani in procinto di essere tagliata, stufa di questo clima, dice. Invece il consigliere Vincenzo Caccioni dice a sua volta siamo ancora un gruppo coeso, riferendosi a Sbraccia e Falasca. L'unico punto di intesa è stato raggiunto sul post-sisma e gli immobili classificati come B. Vediamo il servizio dalla nostra redazione teramana sulla crisi al comune di Teramo. All'ultimo consiglio comunale è andato in scena il discorso a braccio del sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, solo e senza un esecutivo. Una ringa di 50 minuti, accorata e piena di scuse per i troppi e deleteri rimpassi di giunta, che però non ha di fatto risorto la crisi politica al comune. Intanto c'è da dire che Brucchi si è presentato in aula al cospetto di tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione, senza i nomi dei futuri assessori, che dovrebbero essere sette invece di nove e che saranno resi noti solo tra qualche giorno. Questo temporeggiare del sindaco ha però fatto nuovamente irrigidire quei gruppi di maggioranza in forte contrasto con lui e che fanno capo a Gian Donato Morra, Mauro Di Dalmazio e Gianni Chiodi, insieme ai 3-3 dissidenti dell'ultima ora. Su Di Dalmazio e Chiodi in particolare Brucchi ha avuto parole sferzanti e polemiche, senza mai nominarli, ma evocando quel modello teramo che fa proprio capo a loro e che pare lo abbia abbandonato. La futura composizione della giunta, se da una parte riuscirà ad accontentare qualcuno, dall'altra scontenterà altri e dunque il fine mandato di Brucchi, se mai ci sarà, resterà traballante e appeso ogni volta ad un filo sottilissimo. La sensazione avuta in Consiglio Comunale è che la maggioranza dei consiglieri non voglia il commissariamento del Comune che avrebbe bisogno, secondo il sindaco, di affrontare, presto e bene, problemi importantissimi come la ricostruzione, i 4.500 sfollati e il nuovo polo scolastico nel quartiere San Giuseppe. Durissima l'opposizione, se il sindaco pensa di realizzare il nuovo polo scolastico, come sta facendo per il Corso San Giorgio, è meglio che se ne torni a casa. I terramani sono allo stremo, questa guerra delle poltrone ha paralizzato e dissestato la città e ben venga dunque un commissario. Infine, da sottolineare le dimissioni da capogruppo del Partito Democratico di Gianguido D'Alberto, sostituito da Maurizio Verna. La telenovela al Comune di Teramo continua per tutti gli amanti delle soppopere. Di spalla sulla pagina vediamo acceleratore lineare tutto nuovo al Mazzini, con una foto del primario di Radioterapia, il dottor Carlo Dugo. Ancora siamo a Giulianova, giunta Mastromauro punta su Vanni, potrebbe essere il nuovo delegato al bilancio in quota Democrat, Ranalli e Verdecchia con il confermato Ruffini, Core pensa di lasciare. Su fronte centrodestra Siluro contro il consigliere regionale D'Ignazio, lui dice non sarò mai sindaco di questa città, un vero colpo basso. E poi ancora per sostituire di Giambattista presentati otto curricula, cinque stelle contro la segretaria. E poi ancora in Val Vibrata, crollo alle comunali, resa dei conti nel PD a Martinsicuro, la foglia lasciata troppo sola, a Tortoreto di Nicola, paga dopo le primarie. Lasciamo il messaggero Abruzzo e ora andiamo sulla città, il quotidiano della provincia di Teramo, andiamo a sfogliare le pagine della città. Partiamo da pagina 5, gli antivaccinisti a convegno a Mosciano si dicono contro l'obbligo vaccinale per legge, ma tra di loro sono tanti i contrari alla vaccinazione. L'appuntamento è per sabato al Blue Palace di Mosciano con medici, tecnici, legali, psicologi, dirigenti scolastici e giornalisti. Avanti ancora, siamo a pagina 6, ancora la crisi in comune a Teramo. Brucchi lancia il laboratorio del centrodestra, il sindaco chiama raccolta le forze che diedero vita al defunto modello Teramo per un accordo in chiave futura. Intanto, entro fine mese c'è da rinnovare le nomine politiche alla presidenza e nel CDA della partecipata Teramo Ambiente. Non c'è ancora la quadra per la nuova giunta, la decisione potrebbe slittare ancora in attesa degli ultimi incontri tra i politici. Attacco frontale a Verna, Minosse e Ginobili, dunque sempre la politica in primo piano. Gianluca Pomante di Abruzzo Civico critica i vertici del PD provinciale dopo i risultati delle comunali. Navarra e il PD, il gruppo per il PD prende le distanze dalla possibile candidatura a sindaco di Tommaso Navarra, presidente del Parco del Gran Sasso Monti della Laga. Avanti ancora il lavoro del futuro, ho tanto lavoro ma non riesco ad offrirlo. L'imprenditore l'antica all'appello al sistema formativo abruzzese, mancano giovani specializzati orientati al mercato. Ecco qui l'imprenditore in questione, Mariano Monaco, titolare dell'omonimo gruppo. Ci sono problemi simili, appena due giorni fa la notizia di una autocarrozzeria costretta a mettere in piedi una scuola di formazione per reperire personale. Il problema è il seguente, Monaco ha bisogno di giovani architetti, interior designer, addetti al marketing e sociologi, ma non riesce a trovarli sul mercato. Avanti ancora una rete locale contro il cyberbullismo, domani al consorzio BIM esperti a confronto sui rischi della rete, coinvolti sindaci, scuole e associazioni. Le notizie dalla provincia, in marcia dalla vetta del Gran Sasso a Pineto, quattro giorni per compiere l'impresa aperta a otto fortunati organizzata dall'associazione Abruzzeria. Poi Penna Ball è il nome che gli organizzatori hanno dato alla quattro giorni di super trekking, che partirà dai 2912 metri della vetta del Corno Grande per arrivare fino alla spiaggia di Cerna e di Pineto. A Martinsicuro, Camaioni chiude gli apparentamenti. Il sindaco uscente dice che cercheremo di convincere i cittadini, non i politici. C'è un'apertura, poco prima della scelta del sindaco uscente, era arrivata un'apertura da parte di Elisa Foglia del PD, poi rimasta esclusa dal secondo turno di ballottaggio. Siamo al comune di Giulianova, Giorgio D'Ignazio, il consigliere regionale Giorgio D'Ignazio, che dice non voglio fare il sindaco di Giulianova. Intanto Gianluigi Core veleggia verso la giunta, la sua nomina libererebbe il posto nel CDA dell'Enteporto a favore del PD. Al posto di Core nel CDA dell'Enteporto potrebbe arrivare Giuseppe Cartone. Anche in questo caso facciamo il punto della situazione a Giulianova con questo servizio e con le parole del sindaco Francesco Mastromauro. Alla fine la quadra l'ha trovata, il sindaco di Giulianova Francesco Mastromauro dopo due giri di consultazioni è riuscito a mettere d'accordo la sua maggioranza su un patto di fine legislatura che metta in primo piano la manutenzione della città. Tutti d'accordo quindi, anche il gruppo di Civicamente che non aveva votato il bilancio creando lo strappo che ha accelerato la verifica di maggioranza. Il gruppo garantirà l'appoggio esterno alla nuova giunta Mastromauro. Dopo l'azzeramento delle deleghe voluto dal sindaco prima delle consultazioni con i gruppi politici, ora i prossimi incontri a partire da quello di lunedì verteranno sui nomi a cui affidare i vari assessorati. C'è stata la rinnovata stima, volontà, fiducia al sindaco e al programma. Oggi io ho posto un altro step ai gruppi, naturalmente a quelli che vogliono entrare nell'esecutivo, ho chiesto loro di fare una riflessione in questi giorni, riconvocandoci per lunedì prossimo, intorno alle 13 ci vedremo con i due gruppi di PD e del Partito Democratico di Articolo 1, affinché mi pongano una rosa di nomi, donne e uomini, all'interno dei quali io possa scegliere le migliori risorse in termini di qualità, di impegno, di dedizione per ricostituire l'esecutivo che deve essere ancora più motivato, perché quelli che hanno fatto gli assessori e magari continuano a fare gli assessori hanno lavorato bene, chiariamo subito. Io voglio maggior impegno perché ciascuna fase dell'amministrazione comunale ha bisogno degli interpreti giusti. Sempre sulla città vediamo le ultime pagine, a Roseto il progetto del Pontile e del Consigliere, grande apprezzamento per la proposta lanciata da Peppe Di Sante, il Consigliere ha realizzato il progetto gratuitamente, ora servono i fondi, circa 500 mila euro. E sempre a Roseto l'amministrazione PD promuove la città con lo slogan dell'opposizione, il video che vede il protagonista Gianluca Ginobile intitolato Hashtag Amoroseto, è stato utilizzato durante le elezioni, lo stesso slogan, per indicare la coalizione che aveva come candidato sindaco Rosaria Ciancaione. Andiamo ora alle pagine dello sport, sul fronte Teramo è ufficiale, ripeto, ora l'incontro con Asta, tutto quasi risolto col direttore sportivo che però firma solo per un anno, da oggi il via all'operazione allenatore. Parallelamente alla scelta del tecnico si valutano anche gli elementi della rosa perché molti contratti andranno risolti con l'incentivo all'esodo, in più c'è la scuola della chiusura del bilancio il 30 giugno. Nelle prossime ore ci sarà l'incontro con Asta, è probabile che si raggiunga molto presto un accordo totale. Lasciamo la città, torniamo sul centro, c'è la pagina sul Pescara, ovviamente il mercato che impazza in questi giorni. Gans non si sblocca, Juve Coulibaly fumata nera, ce lo chiede l'Atalanta per Capone e Latte Latte, vicinissimo l'interista Palazzi. Blitz al Milano del presidente Sebastiani e del direttore sportivo Leone, per la punta bisognerà attendere ancora qualche giorno. E poi ancora il Verona può riscattare l'attaccante, ovviamente si parla di Gans entro mercoledì, ma i bianconeri hanno la controopzione. Il Bebi sarà ceduto al miglior offerente, il Bebi ovviamente è Coulibaly, Vaglietti no dell'Inter, Memushai tra Sione e Lille, Bizzarri verso Udine. E poi in basso leggiamo a breve, Oddo incontrerà il Palermo, a Terni il favorito è Pochesci, Corini a Novara, Grassadonia a Vercelli. Valzer dunque di panchine in cadetteria. Anche sul centro, ecco qui la notizia, Teramo, ecco Repetto, accordo fino al 2018, oggi vertice con Asta, il DS ha accettato la proposta del club bianco-rosso, adesso la scelta del tecnico, l'ex Feral Pisalò è in pole. Intanto l'Alessandria batte la Reggiana e va in finale contro il Parma, sabato la sfida per andare in Serie B. In taglio medio De Vincentis, Lanciano, che onore essere qui, il nuovo presidente dei Frentani, spera nella missione in promozione, sono fiducioso De Vincentis che fino a pochi giorni fa è stato presidente del Francavilla a un passo dalla Serie D. Calcio a 5, Pescara deve arrendersi ai rigori, il sogno tricolore finisce in lacrime, una doppia rimonta non basta, i biancazzurri per trascinare la Serie a gara 5. L'Uparenza è campione, il presidente Gian Nascoli dice che spettacolo, la nostra gente ci riproveremo in Italia e in Europa. Allora vediamo le immagini della partita di ieri, gara 4, che si è giocata al Palarossini di Ancona. Le nostre immagini partono dagli ultimi istanti della partita con il Pescara che era sotto 2 a 3, quindi con lo scudetto praticamente in mano della L'Uparenza, ma a 9 secondi della fine, appena a 9 secondi della fine, Azzoni aveva pareggiato questa gara portandola di fatto ai calci di rigore. Per la terza volta su 4 partite si è andati ai calci di rigore e come in occasione di gara 1 i rigori sono stati fatali per il Pescara. I primi rigori calciati da Morgado e Foglia, entrambi a segno, poi il primo errore del Pescara con la traversa colpita da Salas, il gol di Coco Wellington per la L'Uparenza e poi l'ultimo errore è quello di Cuzzolino che rende inutile anche il terzo rigore della L'Uparenza. Quindi il verdetto amaro per un Pescara comunque commovente è che la L'Uparenza vince il sesto scudetto della sua storia, diventa la squadra più titolata d'Italia sotto questo punto di vista, la squadra più scudettata d'Italia. E qui abbiamo visto il capitano Onorio che alza il trofeo che gli viene consegnato dal presidente della divisione calcio a 5, Montemurro. Possiamo rientrare, pallannuoto di Fulvio, protagonista in ricordo di Pomiglio, emozioni alle naia di poker dell'idolo di casa a Pescara. L'Italia supera il Giappone, un pubblico commosso, rende omaggio allo storico dirigente. E intanto c'è la squadra maschile impegnata nei play-off per salire in A2. Il Pescara cede di misura a Messina e va alla bella per l'A2. Il destino dei Biancazzurri si decide in casa sabato 24, in Serie B club acquatico KO e la terza retrocessione di fila. Andiamo a chiudere rapidissimamente con il messaggero, con le pagine dello sport. Anche in questo caso c'è il mercato in primo piano, Pescara Juve fumata grigia. Ieri a Milano incontro tra Sebastiani e il club bianco-nero. I campioni d'Italia offrono un migliore. Il Delfino ne chiede 4. Ganso offerto a titolo definitivo, non c'è accordo sul prestito. Va meglio con l'Atalanta, è quasi fatta per Capone e Latte Latte. E poi ancora per il calcio a 5, Pescara rigori fatali. Addio allo Scudetto. La Luparenza è campione d'Italia vincendo 5 a 4 e dopo il pareggio di Azzoni a 9 secondi dalla fine dei regolamentari. Decidono gli errori di Salas e Cuzzolino. Noi ci fermiamo con questa edizione moderna di mattino 6. Vi ricordo gli appuntamenti con il TG6 alle 14, alle 19 e alle 23. E poi vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Velo. Il nostro settimanale dedicato al ciclismo con Luciano Rabottini in studio e con la conduzione di Jacopo Forcella. Grazie a Claudio Di Giacomo in regia e grazie a voi per la cortese attenzione. Buona giornata. Grazie a tutti.